Musica Benvenuti al TG10, c'è la pagina politica in apertura del telegiornale, ci occupiamo dell'elezione a Presidente Provinciale di Sicilia Futura, del gelese Giuseppe Licata, Assemblea a Caltanissetta, il movimento politico fa capo all'ex ministro Salvatore Cardinale. E il gelese Giuseppe Licata, già segretario del Circolo Gela Città e anche consigliere provinciale del PD, il nuovo presidente provinciale di Sicilia Futura, è stato eletto sabato scorso nell'ambito dell'incontro che si è svolto a Caltanissetta, il movimento politico fa capo all'ex ministro Salvatore Cardinale, presente tra gli altri l'ex assessore della Giunta Fasulo, Giuseppe Ventura, tra i fondatori di Adesso Gela. È evidente che ora ci aspetto un lavoro fatto con responsabilità, abbiamo detto, in cui non gela soltanto la mia scelta personale, c'è una scelta collettiva di tanti uomini e donne che credono fermamente di poter sviluppare le politiche attive per la città e hanno questa passione per la politica. Evidentemente, dinanzi a un ambiente sorda, a volto stile, in una fase in cui gli schemi attuali della politica non consentono sufficiente vitalità, noi riteniamo e siamo sicuri che Sicilia Futura rappresenterà un grande spazio di libertà, di autonomia, uno spazio di vitalità in cui fare veramente politica, inaugurare la politica dell'ascolto. Ho detto che i partiti tradizionali hanno perso proprio questa indole, inaugureremo la politica dell'ascolto e dell'incontro. In realtà, ascolto e incontro cominceremo ad attivarci nei vari paesi della provincia, anche a Gela, dove inaugureremo questa fase congressuale con i congressi cittadini. Sicilia Futura che apre soprattutto agli esponenti RPD? Sicilia Futura apre a tutte quelle persone che, essendo libere, che non sopportano più una prepotenza, un'arroganza politica, una politica chiusa, incapace di riformarsi, incapace di cogliere anche quello che è il cambiamento della trasformazione sociale, di essere poco inclusivi, tendenti ad escludere. Noi includiamo tutti, è uno spazio aperto. Noi vogliamo essere protagonisti con il principale obiettivo di avanzare delle idee e avanzare dei progetti. E soprattutto di essere riformisti, iniziare quella che è per noi un'attività di riforme anche a livello regionale della politica. Ma a livello proprio locale, Sicilia Futura come si inquadra nel contesto politico? Faremo il congresso cittadino. Sicilia Futura c'è l'interessamento forte, evidente, chiaro del polo civico. Faremo sicuramente un gruppo consigliare e in prossimità si chiama, dopo il congresso cittadino, allargheremo ad altre forze politiche, più che forze politiche le chiamo a tanta gente che ci chiama, che vuole tornare a fare politica ma dove nei partiti non riescono più ad esprimere le loro idee, vogliono essere ascoltate, vogliono incontrarci. È chiaro che il nostro obiettivo è questo. Da qui, a breve, abbiamo due sfide. La sfida nel territorio nostro, nei territori, io parlo anche di Mazzarino, Butera, Riesi, Niscemi, nella parte sud e nella parte nord, dove inaugureremo questo grande spazio di libertà che è Sicilia Futura. E poi c'è la sfida del referendum del 4 dicembre. Nella sfida tutta siciliana nei territori c'è Gela e Gela sarà protagonista con il suo gruppo consigliare. Ferma presa di posizione da parte del presidente di Reset 4.0, Maria Ferrera, in merito alla decisione assunta dai consiglieri Luigi Di Dio e Francesca Caruso di votare sì al bilancio di previsione 2016 senza avere consultato il direttivo. La decisione assunta dai consiglieri comunali di Reset 4.0, Luigi Di Dio e Francesca Caruso in merito all'approvazione del bilancio di previsione 2016 non è affatto piaciuta al presidente del movimento politico, Maria Ferrera. Il voto favorevole, dice Ferrera, è da considerarsi una valutazione di conseguenza o una decisione estrettamente personale, non frutto di una preventiva analisi con il direttivo. I due consiglieri non si hanno comunicato al direttivo di Reset le intenzioni che avevano in merito al bilancio. Noi non ci riuniamo da un po', non per mia mancanza, ma perché evidentemente i consiglieri hanno preso una direzione che non coincide con quella del direttivo. Avrei preferito in queste situazioni, visto che si deliberava una cosa importante per la città, avrei preferito che loro chiamassero, che ci riunissimo e che condividessimo assieme la decisione da prendere. Non dico che il bilancio non doveva essere votato favorevolmente e neanche sfavorevolmente, ma quantomeno quando si condividono delle scelte si discute e si va nella direzione univoca. Per Maria Ferrera si tratta di un'occasione mancata perché poteva essere motivo di dibattito e di confronto al fine di inserire punti programmatici presenti in Reset 4.0. Una discussione in tal senso non c'è stata, i consiglieri hanno scelto per loro libera scelta. Maria Ferrera esorta i consiglieri di Dio e Caruso a condividere le decisioni future con il gruppo Reset 4.0 e a tenere sempre presente che lo stesso è stato e continua ad essere opposizione all'aggiunta comunale. Reset nasce come opposizione a questa amministrazione. I consiglieri sono tenuti a rendere conto al Reset 4.0, quindi ci possono essere i margini per rientrare un po' nella prospettiva. Con Luigi c'è stato uno scambio di messaggi e siamo arrivati alla conclusione che chiariremo quanto prima. La pagina della cronaca nera auto in fiamme la scorsa notte intorno alle 3.30 in via Tiepolo a Gela. Il fuoco ha danneggiato una vettura appartenente ad un bracciante agricolo. Mercato settimanale di Marchitello sospeso domani, martedì 1 novembre, in coincidenza con la giornata festiva di Ogni Santi. Lo ha stabilito con propria ordinanza il settore sviluppo economico del comune di Gela. Le attività commerciali riprenderanno regolarmente martedì 8 novembre. La Sicilia è una di quelle regioni da cui può partire del riscatto per tante ragioni, sicuramente anche per il no. È una delle regioni che più ha subito i danni di una politica che negli ultimi 20 anni ci ha danneggiato. E adesso quella politica chiede ancora più potere per continuare a massacrarci. Per questo dobbiamo votare no. Queste le parole del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio in tour durante il fine settimana nell'isola per sostenere le ragioni del no al referendum del prossimo 4 dicembre. Un tour che domenica mattina ha fatto tappa anche a San Cataldo in piazza Falcone Borsellino per l'occasione gremita di simpatizzanti del Movimento e non solo pronti a sentire le parole del vicepresidente della Camera accompagnato dai deputati del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri per l'Ars e Azzurra Cancelleri per la Camera. Ci stanno togliendo un altro diritto di voto. Prima ci hanno impedito di votare per le province, poi per le città metropolitane, poi con la legge elettorale alla Camera ci hanno tolto il diritto di votare alla Camera e adesso ci stanno togliendo il diritto di votare il Senato con la riforma della Costituzione. Questo ci deve far arrabbiare non poco. Siamo già abbastanza arrabbiati come popolazione. Semplicemente parlando a più persone possibile in piazza, porta a porta, nelle tv, utilizzeremo tutti gli strumenti possibili per raccontare il no. Però non rinunciamo a parlare dei temi concreti del paese. Siamo rimasti l'ultima forza politica italiana a poter riempire le piazze senza disordine pubblico. Ringrazio le forze dell'ordine che sono qui ma non ne abbiamo mai avuto bisogno in questi anni perché le nostre piazze sono pacifiche, fatte di persone che parlano di temi e che vogliono cambiare veramente questo paese. E spero che l'anno prossimo la Sicilia sia la prima regione 5 stelle d'Italia. Un'occasione, come ricordato da Luigi Di Maio, che all'inizio ha chiesto un applauso di incoraggiamento per le popolazioni del centro Italia colpite dall'ennesima scossa di terremoto per dare voce a chi ha problemi e denunciare gli effetti prodotti dalle ultime riforme, tra cui la buona scuola. Sono stata stabilizzata e ho preso il ruolo in Liguria a settembre e ad oggi non ho ancora una sede. Infatti è un tanto di parlare di buona scuola che ha migliorato la scuola, ma in realtà queste assunzioni sono state fatte e continuano a farsi in modo molto confuso, gettando spesso tante famiglie in uno stato di ansia e a volte anche di disperazione. Un sì per dire addio al bicameralismo paritario, cancellare poltrone e stipendi, garantire stabilità e partecipazione, le ragioni del sì al prossimo referendum costituzionale sostenute invece da Sicilia Futura in occasione dell'Assemblea provinciale. Entro il prossimo 30 novembre al Comune di Gela le famiglie che versano in particolari condizioni economiche possono presentare una richiesta per accedere al contributo per fornitura idrica a favore delle cosiddette utenze deboli. Hanno diritto all'agevolazione i nuclei familiari che hanno fino a tre figli a carico con una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 7.500 euro o le famiglie con oltre tre figli a carico ed una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 20.000 euro. Sono esclusi dal contributo i morosi che non provvedano a regolarizzare la propria posizione o le utenze che già usufruiscono della tariffa agevolata riservata ai pensionati. Modelli e modalità di presentazione dell'istanza sono disponibili negli uffici del Segretario Sociale in Viale Mediterraneo o sul sito internet del Comune di Gela. Sono stati accolti nell'aula consigliare del Palazzo di Città gli atleti della Nazionale Italiana Special Olympics che dallo scorso 28 ottobre si sono allenati sulla spiaggia di Gela al fine di preparare nel migliore dei modi la partecipazione ai campionati mondiali invernali che si svolgeranno in Austria nel marzo del 2017 nella disciplina della corsa con le racchette da neve. L'iniziativa giolese è stata promossa dalla associazione Orizzonte di Natale e Salucci. Stiamo portando uno sport che qua penso non si veda abitualmente sulle spiagge di Gela e devo dire che la risposta sia da parte di chi ci ospita, della popolazione e da parte dei ragazzi soprattutto che si stanno allenando con molta energia e molta voglia è ottima. Abbiamo voluto dare il giusto merito per la fatica che viene fatta per consentire a tutti di dare la possibilità di fare attività fisica, di integrarsi, di crescere, di relazionarsi. Un'attività importante che supera quelle che sono i confini della città di Gela e grazie a questa intensa attività e per il buon lavoro risuolto all'interno del nostro territorio dai volontari dell'associazione Orizzonte sono venuti a trovarci alla nazionale italiana di Special Olympics per le racchette da neve che si sta allenando lungo le nostre spiagge per prepararsi per i mondiali che si avranno in Austria questo inverno. Lo sport come vediamo un'altra volta unifica, dopo Monica Contraffatto siamo qui per dare la nostra gratitudine e mostrare il nostro orgoglio nei confronti dei campioni attuali di Consuelo Ferrare e Mario Pizzardi. Adesso avremo anche un altro ragazzo di Gela che parteciperà a questi giochi olimpici che si terranno a marzo in Austria nella disciplina corsa con racchette da neve e Mario Palmeri. Il nostro orgoglio è immenso, crediamo che in queste attività possono dare grande ricchezza alla città di Gela e veramente riuscire a creare una rete affinché queste attività si diffondano sempre di più e più che altro si diffondano anche nel nostro cuore. I ragazzi della Nazionale hanno avuto a disposizione le strutture del Club Vela per momenti di relax, gioco, incontri tecnici e momenti di socializzazione grazie alla disponibilità del Presidente Luigi Nastasi. Noi siamo veramente felici di ospitare questi ragazzi e con questo credo che abbiamo vinto una grossa scommessa che abbiamo fatto con Natale Salucci, quindi il responsabile di Orizzonte, l'associazione Orizzonte, la quale quest'inverno dicevamo ma ce la facciamo o non ce la facciamo? Noi ce la mettiamo tutta e credo che il Club Vela abbia dato la dimostrazione come un club privato si possa aprire alle proprie strutture per un qualcosa di molto più grande, di molto più importante. L'appuntamento con la trasmissione 10 domande 10 questa sera alle 21, il nostro ospite sarà il comandante del reparto territoriale dei Carabinieri, il Maggiore Antonio De Rosa. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, lunedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico, nastro adesivo, penne, carta carbone, oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelli, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli, elettrici e non, cassette audio e video, floppy disk, cd, tvd, spugne sintetiche e stracci sporti, cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici, sacchetti aspirapolperi, mozziconi di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. L'iniziativa è dello stesso istituto scolastico dell'Archeoclub d'Italia e della libreria Mondatori. Inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Uni3 di Gela, presieduta da Angela Scaglione Altamore. Si terrà sabato 5 novembre alle 17.30 presso l'auditorium del liceo classico Eschilo di Gela. Saranno presenti tra gli altri Aldo Cibona, il dirigente scolastico Giacchino Pelitteri e l'assessore comunale Francesco Salinitro. E adesso parliamo di calcio, pesantissima sconfitta del Gela a fratta maggiore. I biancazzurri perdono l'imbattibilità esterna, naufragando sotto i colpi inferti dalla squadra campana. Finisce 5-2. Esame di maturità fallito, bocciati senza alcuna giustificazione. Il Gela perde pesantemente in campania contro la frattese, trasferta amarissima. Un 5-2 che sarà difficilissimo da dimenticare. Batosta che porta con i piedi per terra la truppa di Infantino. In settimana si era detto che la trasferta nel Napoletano, dopo il pari dell'udente, conseguito al Presticon alla Palmese, avrebbe dovuto rappresentare la chiave di svolta. Così è stato, ma in senso negativo. Dispiace tantissimo per i tanti tifosi del Gela che hanno percorso chilometri su chilometri per vedere all'opera, purtroppo, una squadra irriconoscibile. Basti pensare che alla fine del primo tempo si era già sul 3-0 per i campani e con tre gol subiti in appena sei minuti. Un naufragio. I biancazzurri, a dire il vero, erano partiti bene. Al trentesimo, Chidichimo aveva timbrato la traversa, poi solo frattese. Il primo gol è giunto al trentasesimo con Vacca. Dopo appena tre giri di orologio è arrivato il raddoppio. A siglarlo è stato Longo. Il Gela sparisce dal campo. Al quarantaduesimo il portiere Saitta commette un fallo in aria e calzo di rigore. Si incarica dalla battuta a Longo. L'estremo difensore gelese respinge, ma arriva ancora Vacca che insacca. La truppa di Infantino si fa vedere dalle parti del portiere Rinaldi con Kosovan. Il guardia pari campano smanaccia in angolo. Nella ripresa si attende la reazione del Gela, ma è ancora la frattese ad andare in gol. La marcatura è realizzata ancora una volta da Longo. 4-0. I giolesi cercano di addolcire la disfatta con un tiro di Bonaffini alzato sopra la traversa da Rinaldi. Al quattordicesimo arriva la manita campana. Longo realizza la sua personale tripletta. 5-0 e notte fonda per i biancazzurri. Mai nella storia del club gelese si ricorda un passivo così pesante. Il difensore centrale Gambuzza segna il gol della bandiera al ventiduesimo. Un minuto dopo è ancora la frattese a farsi avanti, ma questa volta la conclusione finisce fuori. Nonostante i cinque gol subiti, Seitta evita il 6-1. A tre minuti dalla fine della gara, Capitano Bonaffini sigla il 2-5. Una sconfitta pesantissima. Adesso sarà compito di chi guida la squadra analizzare il problema e porre subito rimedio. Immediatamente non è affatto ammissibile che si perda in questo modo. Domenica prossima tra le muramiche i biancazzurri ospiteranno la nuova capolista del campionato. Ripartiamo dalla Rende giocando e lottando su ogni pallone. Cattivi agonisticamente parlando per tutti i 90 minuti, altrimenti sarà notte fonda. Il tecnico del Gela Pietro Infantino si assume tutte le sue responsabilità e chiede scusa per la pesantissima sconfitta subita ieri. Vediamo. Quando si subisce così, credo che il primo a farsi un esame di coscienza sia l'allenatore nella preparazione della gara. L'altro pensiero è che il mio primo pensiero va ai nostri tifosi che dobbiamo chiedere scusa a loro che sono fatti 20 ore di pullman come noi e hanno subito questa umilazione. Questo è il primo mio pensiero. Poi le colpe in questo momento. Noi dobbiamo lavorare, ricombattarci perché il campionato è lungo e ci dobbiamo far perdonare dai nostri tifosi. Solo con il lavoro e la compattezza si può recuperare quello che è successo. Avete affrontato la squadra attualmente più in forma del campionato. Possiamo dire di contro che la frattese ha affrontato una squadra scarica sotto tutti gli aspetti? Sicuramente si sono affrontate due squadre che erano in momenti opposti. Io credo che la frattese veniva da due mesi di un mese di difficoltà. Una squadra costruita per vincere il campionato. Noi sappiamo tutta la nostra storia. Siamo partiti il 4 settembre dopo una sosta. Abbiamo recuperato tutti i giocatori perché avevano la voglia di giocare ancora nel gelacalcio. Abbiamo preso due o tre giocatori. L'unico giocatore che aveva fatto il ritiro veniva da una squadra era Zambuzza. Gli altri abbiamo preso giocatori importanti però senza una base fisica. Credo che questo lo stiamo pagando. Però non dobbiamo cercare alibi. Noi dobbiamo ricombattarci. Dobbiamo lavorare. Sappiamo che siamo in difficoltà con la nostra gente perché si è sempre sostenuta. Però credo che questa squadra... Io dico sempre che noi sappiamo come siamo partiti. Sappiamo come vogliamo arrivare. Io garantisco alla gente che questa squadra a maggio darà grossissime soddisfazioni. Però in questo momento abbiamo bisogno di loro, del loro sostegno. Sappiamo che dobbiamo fare di più. Però io credo che questi ragazzi fino ad oggi dieci partite ne hanno persi due. Si sono fatti sempre rispettare. Sappiamo che ora in questo mese ci dobbiamo stringere ancora di più. Dobbiamo essere tutt'uno. Io ho detto le prime due cose. La forza nostra deve essere il lavoro e la famiglia. Io credo che abbiamo bisogno di tutti. Perché veramente oggi siamo un po' in difficoltà. però solo con l'unione di intenti e con un po' di sacrificio in più possiamo superare questo mese di novembre e poi sicuramente la società sa cosa deve fare per onorare, per portare più in alto possibile questo Gela. E nel campionato di eccellenza, sconfitta per il Terra Nova Gela, nel derby contro il Alicata, giocato il Presti, quando tutto lasciava presagire al pareggio, tutto sommato giusto, a pochi minuti dalla fine della contesa, i Gelo Blu sono riusciti ad andare in montaggio con gli anni sotto e a chiudere la gara. È finita 1-0 per la squadra allenata dall'ex Simone Pardo. Appuntamento col cinema all'antitodo di Gela e in proiezione il film Lettere da Berlino. Sono due gli orari di 19.30 e 21.30. Ed è scattata all'antitodo la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2016-2017. Il cartellone comincerà il prossimo 23 novembre. L'abbonamento intero costa 70 euro, 55 euro ridotto per i giovani. È nuova stagione teatrale anche all'Eschilo. Dall'8 novembre in scena i più grandi artisti italiani, del teatro e della televisione. Il prezzo dell'abbonamento in questo caso è di 90 euro. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.